Ciao, sono Marco Carnesecchi, ho 21 anni, vengo da Rimini e sono il portiere capitano della Nazionale Ander 21. Mi descrivo un giocatore che porta entusiasmo, carismatico e professionista. La passione portiere nasce da quando un giorno mancò il portiere quando eravamo piccoli e mi si importa quel giorno lì e da quel giorno non sono più uscito dalla porta e non ho mai più cambiato il ruolo. La tecnologia nel calcio ha cambiato il mio ruolo e ha cambiato il modo di operare le partite. Ora piuttosto di fare una seduta di allenamento lunga magari 3-4 ore si preferisce fare una seduta tecnologica con un video o con delle riprese in modo tale da uscire in campo e essere già pronto tatticamente. A noi portiere è seduta particolarmente per studiare gli avversari, per studiare i calci piazzati e prepararci al meglio per essere più pronti in qualsiasi occasione. Riguardarsi fa proprio parte dell'essere professionista, nel senso che vai a cercare sempre il periodo nell'uovo avendo la possibilità appunto di questa tecnologia, vivendo le cose che hai fatto bene e le cose che puoi aver sbagliato. Quindi la tecnologia sta aiutando molto sia a me stesso personalmente che il calcio in questo momento. Nella vita quotidiana ormai la tecnologia è tutto, basta vedere quando non hai il telefono per più di due ore e quando vai a riprendere sembra che come da picco ti portavano i dolcetti. Il mio rapporto con i social per fortuna è molto buono, nel senso che io guardo profili solamente che mi portano cose buone, profili che mi portano entusiasmo, non guardo sicuramente profili che portano negatività. La prima volta che ho ricevuto la chiamata da Nazionale Azzurro è stata un mix di emozioni che non mi dimenticherò mai perché non ho dormito per giornotti consecutivi, nonostante fossi veramente piccolo, avevo 16 anni, però dalla prima volta che ho incestato è stata veramente un'emozione che va avanti tuttora. Già sentire l'inno in sé quando magari sono al mare a far niente è bellissimo, vengo nella ferie d'oca. Cantarlo da capitano è non un punto d'arrivo ma un punto di partenza, però mi riempie il cuore d'orgoglio ecco.